I bambini ricoverati nel reparto di pediatria del presidio riuniti di Reggio Calabria hanno ricevuto una bella sorpresa. È stato festeggiato il Natale in corsia con la consegna dei regali da parte delle volontarie a bio, che hanno organizzato in ludoteca un'allegra festicciola per aglietare l'adegenza dei più piccoli e degli adolescenti che in questo particolare momento si trovano ricoverati in ospedale. Babbo Natale è arrivato con qualche giorno di anticipo portando un carico di doni, solidarietà, sorrisi, la magia delle feste e un po' di serenità. I volti dei piccoli si sono illuminati, non appena uno ad uno i giochi sono stati tirati fuori dal grande sacco e distribuiti per loro una parentesi di felicità in un periodo della vita particolarmente travagliato. L'occasione è stata propizia per accogliere in reparto il noto editore Graziano Tomarchio con la consorte Dominga Pizzi, il quale nel segno della costante vicinanza all'ospedale e ai piccoli degenti ha donato alla pediatria un utilissimo apparecchio saturimetro con sonda pediatrica. Tutti noi ringraziamo per questo l'editore da sempre sensibile alle tematiche riguardanti i bambini e gli adolescenti, ormai vero e proprio amico del nostro reparto. Anche quest'anno con amore ho voluto rinnovare il mio supporto ad Abbo e agli operatori sanitari del reparto. Ha commentato Graziano Tomarchio, desideriamo che per i piccoli in ospedale sia Natale in un'atmosfera per quanto possibile distesa a fianco ai propri genitori. Grazie a tutto il personale, ai volontari, ai medici, agli infermieri per il lavoro che svolgono giorno dopo giorno. E afferma inoltre la presidente di Abbo di Reggio Calabria, Giovanna Curatola, le volontarie sono quotidianamente presenti con il preciso compito di sostenere pazienti e famiglie, cercando di mitigare l'impatto con le strutture sanitarie. Desidero personalmente ringraziare Graziano Tomarchio per questa collaborazione che è diventata ormai una gradita abitudine. Sono qui per accogliere l'editore Graziano Tomarchio che anche quest'anno ha rinnovato la vigilanza ad Abbo e al reparto di pediatria e quindi anche ai piccoli pazienti, donando un importante e fondamentale apparecchio, un saturimetro, che servirà al reparto e alla sala di pronto soccorso proprio per le indagini necessarie. Siamo molto felici e contenti perché questa collaborazione dura da diverso tempo ed è per noi un motivo di, oltre che di orgoglio, anche di grande gratificazione perché un supporto del genere per noi ci rincuora e ci dà molto aiuto nei momenti di necessità.